piccolo aggiornamento per quanto riguarda il pacco di Taobao per le due bottiglie di Amaraverna ieri sera mi sono dimenticato di considerare il fatto che quando ho fatto il video era già scoccata la mezzanotte quindi quel mio domani era riferito a domani, ovvero giorno 18 con dei capelli improponibili mi trovo a Zhongshan Guangxiang dove si può vedere la statua di Mao Zedong in italiano Mao Zedong e niente, vi faccio vedere un po' ovviamente queste statue che rappresentano il popolo, la rivoluzione e in alto Mao quindi qua c'è Mao, mentre non mancano neanche le decorazioni per il capovando cinese questa parte della città è molto caratteristica, è molto diversa dalla zona in cui vivo io o dalla zona in cui Giovanni ha il locale adesso caffè da Starbucks e poi partita del Palermo no ragazzi, luoso, niente da fare, quando vedo un luoso devo entrare a mangiare qualcosa oggi è anche una bella giornata, sono solamente meno 5 gradi non è neanche tanto umido quindi si sta veramente d'addio benissimo questo I love Taiyuanjie questo è tipo il mcdonald dei ravioli si chiado questa è una jonsie però leggermente più lussuosa che figata mamma mia vorrei fare pure io se so non avessi 28 anni allora sono appena arrivato a casa spero che il video vi sia piaciuto oggi spero che domani arrivi la Mara Verna vi auguro una buona notte come sempre mettete un mi piace lasciate un commento e condividete il video ciao sì sì sono d'accordo ciao ancora no questa che è un'area non soggetta a scorsi dei terremoti la parte in cui avvengono sui tendere scorsi dei terremoti vicino sono nella